buonasera a tutti adesso ci vediamo un filmato di qualche giorno fa o di qualche settimana fa riguardante il prosciutto spagnolo quindi il taglio del prosciutto spagnolo con l'introduzione spagnola da parte di federico nonna maria e nonno faustino si parla spagnolo lo spagnolo italo spagnolo insomma vediamo il filmato di cosa si tratta carlettors maria postino no sono rossa affittamos il prosciutto se hava no 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 Eccolo! Olè! Olè! Che prrrra giuttos! Molinario! Olè! 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 Solumonienos! Olè! Cos'è no? Ma se tu lo spostes, come faccio il trino? Non lo so! Riprovamos! Vai! Amassos! No! Strontos! Por qué? Si tu sei osso, a dos, mi, mi! Tieno più su! Ah, ok! L'italiano è meglio! Vai! Mi pesava la mano! Pensando a questo cazzo! Olè! 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 No! Testa di cazzo! Olè! Olè! Ma olè! Olè! Tu cazzo! Tu tagli il cucino! Come lo vas a tagliar? Olè! 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 Orizontales! Come! 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 Tu cazzo! Il cazzo! Che cazzo! Che cazzo! Che cazzo! Alla! Che cazzo! Che cazzo! Op! Il cazzo! Che cazzo! Che cazzo! E lì! Ok! Che cazzo! Ma! Cazzo! hai capito? perché c'è molto un cazzo? ma perché hai fatto un campo lavorato qui? ora la prova del prosciutto, è pronto? fammi la bocca fammela vedere meglio, ma vado a far fuori! ma vado a far fuori! vai! com'è? bono! olè! 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 olè!